L'ormai famoso inchino della Madonna dinanzi alla casa del boss di Livardi ha leso l'immagine di un'intera comunità. In sintesi questo, il pensiero del sindaco di San Paolo Belsito Manolo Caffarelli che a distanza di una settimana dall'accaduto e a seguito del clamore mediatico ingeneratosi a livello nazionale, torna sulla vicenda prendendo le distanze dall'omaggio alla malavita locale. Non è cambiato assolutamente nulla rispetto agli altri anni, negli anni da quando io sono sindaco. L'unica cosa che è cambiata nel corso di quest'anno è il fatto che in quella piazza non si sono sparati i fuochi, per mia volontà e perché non ci fosse questo omaggio a queste persone note alle forze dell'ordine. Ho lottato veramente con la gente, con il popolo, senza timore dei partiti e delle famiglie e delle persone che per anni hanno condizionato la vita politica di questo paese. Ho avuto il coraggio di essere da solo in questa sfida, spero di non esserla oggi in questo momento particolare per me. Accettiamo l'arrivo dell'antimafia con piacere, ma non sicuramente possiamo etichettare questo paese come un paese dove vige la camorra. Intanto a San Paolo Belsito ci si prepara a scendere in piazza. È stata organizzata infatti per sabato prossimo una fiaccolata anticamorra alla quale parteciperanno tutti i sacerdoti della diocesi di Nola, i sindaci del territorio, associazioni e deputati. Una marcia silenziosa in nome della legalità che da San Paolo Belsito raggiungerà la frazione di Livardi, che si concluderà con una messa solenne ufficiata dal Vescovo Beniamino di Palma negli stessi luoghi dell'inchino al Bosso. Il principio che voglio affermare è quello della legalità, in ogni atto e in ogni momento. Per cui chiunque venga a San Paolo per proporreci qualche momento di riflessione su questa cosa, di portare questo valore all'attenzione della nostra gente, sarà il benvenuto.